Sono arrivati ieri pomeriggio all'aeroporto di Malpensa con un volo proveniente da Istanbul Angela Lano e Ismail Abdel Rahim Karachi, due degli attivisti pro-Gaza coinvolti nel blitz dei soldati israeliani contro le navi Flottia Freedom. Ad accoglierli c'era una folla di un centinaio di persone, con bandiere palestinesi e che ha intonato nell'atrio degli arrivi dell'aeroporto Varesino, Cori a favore di Gaza Libera e contro Israele. La giornalista torinese e l'attivista palestinese residenti in Italia erano a bordo delle nave 8000 e hanno raccontato di essere stati sequestrati e incarcerati nel deserto per molte ore. Drammatiche sono state le testimonianze dell'assalto alla nave turca, dove sono state uccise nove persone e non è mancata una forte critica al governo italiano, la cui presa di posizione nei confronti di Israele dopo l'aggressione ai pacifisti è stata giudicata inadeguata rispetto alla gravità del fatto.